Siamo qua oggi a domani A domani Ah, chi era quella? Chi era quella là? Andiamo su, oddio Andiamo su, bravo C'è verde? Ah no c'è rosso Ma che cazzo C'è giù la Ah, magari c'è No, aspetta c'è qualcosa sul tavolo Nelle cuffie? C'è le cuffie Non c'era nessuno nelle cuffie? No Non c'è giù la La scala, no Prova a schiacciare Non puoi Ma che cazzo era? Sta buttana Perché un'altra Youtubera Sarebbe lo youtuber donna Davvero Aveva fermato il Non lo so Oh, l'ho inventato adesso Aveva visto quel fantasma Dove adesso Andremo noi Quando si scende dalle scale Andre Andre Adesso hai fatto una brutta fine Guarda se c'è il fusibile No, non c'è No, non ci sta Eh ma è tutto spento Noi invece abbiamo le luci russe Lascia perdere che Non si vede un cazzo Ed è in bianco nero Sono il pianoforte Non cazzo La tele È spenta La televisione Ok, sul tavolo Non c'è scritto niente No No Guarda se è tutto ok Ma che Vai dentro te Vai dentro te per primo C'è un manichino Qui non c'è Tavolo Eh no Adesso fai caso Quando scenderai Dalla Dalla scala C'è Al posto di lui C'è lei C'è quella là Che hai visto Aspetta che ti dice tutto Prima di scendere E tocca a te Amico D'altra volta Siamo usciti noi Bastare E io ti spingo Io ti spingo Ti butto giù Ti butto giù Ti butto Caga sotto Ti butto Ti butto Va bene Vada E adesso guardi Ma lo voglio vedere Voglio vedere cosa fa Ucazzo fa Eh Mi sono bastardo Ti butto nel 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 Guarda Non c'è stancazzo Perfetto Allora vai giù E sta ancora lì Vai su E sta ancora lì Ma che cazzo Questo qua che scende Fa come se forse Fa come se non fosse A casa di altri Vai un po' su Vai un po' giù E dopo va su Ora sali Non puoi più sali Certo Ah sali E ci sta ancora Sto stronzo Vabbè Noi non abbiamo Queste cose Ah continua a guardare su Fino a un po' Non puoi Ah ok Adesso c'è il capio Che fa così E ci sta ancora lì Eh mo andiamo Non ti preoccupa Tutto ok Eh sei già sparito Ok a posto È ancora lì Come cacchio Che ho fatto Vedere il fantasma Quella la Boh Le cose strane Salve E quello va su Quello va su Eh io vado su Mi va bene di andare su Gli piace fare le scale Gli piace fare le scale E c'è stancazzo Perfetto Andiamo giù Te affanculo Te E il tuo fantasma Eh l'abbiamo visto prima Ah beh sì Sulle scale Qua sembra All teen Quello lì sta Tentando di pisciare male E ricordiamo che noi siamo Un uomo telecamera Che abbiamo la telecamera dentro No vabbè A me c'è vicina Guardiamo qua lag E se ci dovrebbe essere un uomo I piedi Esatto Quello lì dovrebbe essere Capo famiglia C'è brucia Quindi adesso Invece di andare Ad uscire con la chiave Che troveremo adesso Mettiamo fusibile Ma vai a prendere la chiave Ok Sembra Non si sa cosa E fuori Da casa mia Si chiudono i cancelli Da soli Va bene Perfetto E' quella là Che sta arrivando A riscuotere Adesso non c'è la chiave Ah c'è sta Ah però non c'erano L'altra volta Gli scarafoni Scara 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 faci Scara faci Scara faci E che te fermi Va a mettere cosa Aspetta no Va vicino alla scatola Va vicino a quella scatola Usa il dito Magari col dito Puoi aprire la scatola No con la tenaglia E adesso No Non mi fa usare niente Con la chiave E con la chiave No Con la cassetta Con la cassetta Con il fusibile Ragazzi abbiamo trovato Quinto finale Vabbè Vada Lo metta Lo caccio dentro Caccio dentro il dito Niente da fare Ok Quindi adesso Rigor di logica Bisogna Invece di andare Di uscire con la chiave Bisogna andare su Quello è già passato Può darsi Ma ti arriva un cartone Tipo non lo so Un Un Johnny Un Johnny Bravo Un Johnny Bravo Le super chicche Do cazzo vai Stavo a guardare Ma che cazzo Vai Ma do cazzo Vai Ma che cazzo Vai Do cazzo Andiamo a vedere se ci sono Non ci sono Non ci sono Va 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 Però c'è quel manichino lì No Poi c'è il piatto per terra Eh È caduto un manichino Sto cazzo Non distrugge tutto E va di super cortesia Eh Pup 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 Adesso Rigor di logica Ci dovrebbe essere Un nuovo Una nuova conversazione Che aprirebbe le porte Ad un nuovo Filmato Finale In teoria Ah ma c'è già il manichino Eh Come vai Triangolo Stisci Dito Del manichino Niente Taglia legna Eh taglia legna Chiave Chiave Ficco su Inserisca Un cazzo Perfetto Allora Ah aspetta Guarda al coso Guarda al quadro Non c'è magari Un elicottero Nel quadro No No Alla Non si sa mai La madonna Ficca Che bestia Ci osservano Da quell'elicottero Secondo me Qualche indizio Che magari In qualche stanza C'è qualcosa Sotto soffitta Può darsi Lui dice Può darsi Può darsi Risponda Allo No Chi parla L'ha detto anche l'altra volta No 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 Non l'ha detto l'altra volta Ha detto altre cose Eh Almeno mi sembra Devi controllare il video Controllo Facci start Metto a pausa Tuntuntuntun Due Tre Ah questo Eh Tiro che presso Perfetto So chi sei Chi parla Eh Prima o poi Arrivò il momento Di dire addio Aveva detto un'altra cosa Ma tu sarai pronto Eh Ragazzi Siamo di fronte Al terzo finale E quindi Va fuori Va ad aprire Va ad aprire Con la chiave Tiro su ancora A lui piace Tirarsi il telefono Uh gazz Libero Benvenuti in famiglia No Qualcuno Ma se è BAM Ma vediamo se magari C'è qualche altra parte Del filmato Sempre quello Sempre quello Perfetto Quando cazzo esce Quello là No Un altro Sto cazzo Un altro finale Wow Perfetto Ecco la mammina Dunque siamo riusciti A vedere anche Il fantasma Che Non si sa bene Salve Grande mago Terzo finale Yeah Terzo finale Ha detto qualcosa Di diverso Adesso non si sa Se ci saranno Altri finali Adesso andremo A sputtarci tutto Su internet Per sapere Scusate ma A sto punto Ce l'abbiamo fatta Con due finali Subito E con il terzo finale Schiaccia Poi almeno Ricomincia Mentre questo video L'avrete visto In due parti Perché sta già Anche a 20 minuti Che faccio più tanti video Possibili Spero che anche questo video Vi sia piaciuto Ricordate che questo gioco Lo comprerà E il signor belluomo Giocherà col visore Della realtà Virtual Playstation Varese Varese Playstation Varese Se mi schiaccia il tasto Evitiamo di Perfetto Spero che il video Vi sia piaciuto Ci vediamo Alla prossima Yo Se belluomo Grazie In un certo giorno Che dirò Top secret Quando stoppo C'è Ragazzi Partirà Una nuova serie Su di nuovo Resident Evil Tra poco ragazzi Vuole salutare qualcuno? Ciao a tutti Ciao a tutti